Mopar innanzitutto che cos'è che cosa fa per chi non lo sapesse e poi perché vale la pena spendere qualcosa in più per questi prodotti 60 secondi per rispondere via tempo Mopar è un brand che lavora con gli altri brand del gruppo FCA al servizio dei clienti Mopar si occupa sostanzialmente di distribuire ricambi quindi per riparare fissare fissare mettere a posto le vetture dai nostri clienti che si recano nelle nostre officine abbiamo anche un servizio di call center a Milano dove lavorano circa 500 persone che rispondono in oltre 25 madrelingua e abbiamo poi una lunga lista di accessori che mettiamo a disposizione dei nostri clienti che hanno la necessità di personalizzare le loro vetture diciamo che il ruolo più importante di Mopar come dicevo prima è quello di poter servire i clienti a 360 gradi dal momento in cui acquistano la vettura tutto il diciamo il ciclo vita e l'utilizzo della vettura acquistata e per gli accessori per gli accessori stiamo lavrando moltissimo perché rispondiamo una specifica esigenza del cliente di personalizzazione della vettura qui al salone di Ginevro abbiamo esposto un Wrangler in particolare che ha una trasformazione omologata da noi che consente l'utilizzo sia su strada che off-road molto importante e poi abbiamo anche altre vetture esposte sugli altri brand. Perfetto, grazie. 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 Grazie.